Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nel giardino dei frati minori Cappuccini, proprio accanto al luogo dove Padre Pio spesso si affacciava, ovvero dalla sua cella, dalla finestra della sua cella, per raccontarvi la rinascita di Samantha. Vedete in questo indirizzo di posta elettronica avete a disposizione l'opportunità per raccontare la vostra storia, com'è entrato Padre Pio nella vostra vita. Samantha, 27 anni, porta sulle sue spalle un passato difficile. Da mesi soffre di fortissimi attacchi di panico, dubbi sulla fede che la devastano spiritualmente. Una parte di me voleva credere, un'altra non riusciva, dice Samantha. La sua vita infrantumi, non riesce più a studiare, a lavorare, le sue prospettive per il futuro sembrano proprio inesistenti. Un giorno riceve il dono di un vecchio libro di Padre Pio. Sebbene inizialmente non si dedichi alla lettura, tutto cambia quando vede un'intervista in tv. Una ragazza che va a fare una testimonianza su come la sua vita sia stata stravolta dalla guarigione leggendo proprio lo stesso libro di Padre Pio. Decisa allora a dare una chance alla speranza, Samantha legge il libro in un giorno intero. Sono rapita da questa figura, racconta, e subito decide di venire qui a San Giovanni Rotondo. Il viaggio è pieno di particolari straordinari, ma Samantha vuole soffermarsi su uno dei più, diciamo, incredibili incontri. Tornata dal pellegrinaggio si reca a casa di amici al mare, in un luogo isolato vicino Roma, scossa dalla conversione del mio cuore, le racconta, stringe il libro di Padre Pio e innalza una preghiera. Chiesi se tu esisti, se tutto quello che ho vissuto nel mio cuore è vero, allora dammi un segno della tua presenza. Con questa preghiera nel cuore, Samantha si reca alla piccola stazione di campagna per prendere il treno per Roma. Allora, seduta su una panchina, continua a pregare, improvvisamente vede arrivare un frate, incappucciato, con dei fiori in mano. Mi si avvicina, mi saluta, racconta Samantha. Iniziamo a parlare del più e del meno. Il frate vede il libro di Padre Pio che le tiene in mano e le dice che abita vicino alla chiesa di San Salvatore in Lauro, a Roma, e le invita a partecipare alla Santa Messa in onore di Padre Pio il 23 di quel mese. Prendi la benedizione del padre tramite la reliquia del guanto e del mantello, gli dice appunto il frate. Samantha prende questo incontro come quella risposta che cercava alla sua preghiera. Va a messa, inizia a pregare, si riavvicina al Signore. Da questo momento inizia anche la sua guarigione fisica completa e una notte sogna Padre Pio, che le parla in dialetto, racconta, guagliuncella, se tieni le tue mani nelle mie noi faremo tanto di quel bene che il tetto di questa chiesa, luogo dove nel sogno erano, non lo tiene. Questo sogno la ispira profondamente. Allora Samantha decide finalmente di dare una svolta alla sua vita. Cambia scuola, inizia a studiare servizio locale con l'obiettivo di aiutare gli altri, trasformare così la sua vita difficile in uno strumento per il Signore. Padre Pio è vicino agli uomini, ci ama, ci chiama e ci aspetta, afferma Samantha, che è grata per l'amore immenso di Dio e per i meriti infiniti di Padre Pio. Grazie a tutti.